La mostra che presentiamo oggi è il risultato di alcuni laboratori che si sono svolti in questi mesi nelle scuole senesi, legate al coinvolgimento dei bambini nel processo partecipativo che è in corso nella città di Siena di accompagnamento alla revisione di alcuni strumenti urbanistici. La città di Siena sta facendo il nuovo piano operativo, il piano urbano della mobilità sostenibile, la VAS legata a questi due piani e quindi ci è sembrato importante coinvolgere i bambini perché rischiano di essere i cittadini più esclusi perché non votano, perché non influenzano le decisioni politiche, invece è importante che la loro voce sia presente. Abbiamo lavorato con gli insegnanti in un percorso di formazione su tre temi, la percezione della città da parte dei bambini, la mobilità autonoma che è un tema importantissimo perché i bambini sono sempre più privati della possibilità di esplorare la città in autonomia, vengono accompagnati dappertutto all'interno di spazi e tempi predeterminati, controllati dagli adulti, quindi la possibilità di vagabondare nella città e di scegliersi i propri luoghi segreti, i luoghi preferiti è sempre più rara. Quindi abbiamo lavorato sulla mobilità autonoma ma anche sulle pratiche ludiche in ambiente urbano, quindi ci sono tantissimi disegni che fanno riferimento proprio ai luoghi preferiti dell'infanzia, luoghi reali, luoghi immaginati, luoghi della città ma anche luoghi nella campagna o nella natura, nello spazio aperto. C'è una gamma infinita di possibilità che sono emerse. L'ultimo lavoro nella sala in fondo è un lavoro sulla percezione sensoriale che hanno i bambini della città, fatto attraverso questo, ispirandosi all'homunculus sensoriale, che è una rappresentazione dei cinque sensi fatta da un neuropsichiatra americano, che in qualche modo rappresenta la prevalenza di alcuni sensi sugli altri e questo lavoro è collegato a una uscita che hanno fatto i bambini all'interno della città e quindi alcuni luoghi che hanno colpito la loro attenzione, la loro percezione. Speriamo che questo lavoro ora possa interagire con il processo di pianificazione in corso e quindi riuscire a riportare in una sintesi un po' il lavoro fatto con gli adulti durante i workshop del processo partecipativo e il lavoro fatto dai laboratori nelle scuole. Le scuole coinvolte in questo progetto, vogliamo citarle perché hanno lavorato tantissimo in pochissimo tempo con dei risultati straordinari, sono il comprensivo Tozzi con la secondaria di primo grado e la primaria, il comprensivo Cecco Angelieri anch'esso con la secondaria e la primaria Peruzzi, e il comprensivo della Quercia con la primaria Dupré, il comprensivo San Bernardino da Siena con la primaria Saffi, il comprensivo Mattioli con la primaria Pascoli e la scuola dell'infanzia Silo Monumento.